Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Fino a 12 prudenza per vento forte tra Pisa e Rosignano. Recomandiamo particolare attenzione alla guida di mezzi telonati e caravan. Infipili per lavori, rallentamenti tra la Strassigna e Montelupo in direzione Livorno. Per traffico, inoltre, coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Lo sguardo al traffico urbano del capoluogo, segnaliamo possibili disagi per incidente in via Baracca. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Ultima pagina per il traffico ferroviario, l'Eurostar Frecciarossa 9535, Milano Centrale e Napoli Centrale sta viaggiando con 17 minuti di ritardo. Il transito a Firenze e Santa Maria Novella al momento previsto alle 14.17, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.